Ben trovati in aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo, giornata di sabato e sull'Italia centro settentrionale infiltrazioni di aria umida dalla Francia determinerà delle precipitazioni soprattutto al nord ovest e poi in giornata anche sulle regioni centrali. Andiamo a vedere quindi la situazione della nuvolosità, nubi irregolari in transito al centro nord, più sole invece al sud. In sintesi la mappa dell'Italia che ci conferma qualche precipitazione attesa in particolar modo al nord ovest in giornata anche sulle regioni centrali e parte della Sardegna invece più sole al sud, una giornata abbastanza bella sempre con clima estivo, caldo moderato. Dettagli maggiori, approfondimenti ritrovate scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.